amici zagoriani bentornati eccole qua le ultime due strisce della corona api la numero 7 e la numero 8 sfida sull'abisso l'ultima battaglia di questa ultima miniserie delle strisce uscite qualche mese fa e di cui io personalmente aspettavo ultime uscite con un po di anzi abbastanza ritardo ma vabbè ma sappiamo che smetteri a uscite non sono proprio regolari come nelle dicole ma o simili perché sai ne dico la terriva per dire il lunedì cercato e metteria arrivi 12 giorni dopo dico per ipotesi ma invece qui si parla di alcune settimane comunque dicevo non è ancora letto perché siamo arrivati oggi e aspetterò le leggerò voglio dire poi fare un po di commenti fino ad ora la storia mi è piaciuta a me mi manca da leggere le ultime tre mi pare e anzi guardate ragazzi ve le faccio rivedere tutte insieme queste 8 7 6 5 4 3 2 e 1 eccole qua queste sono le bellissime copertine di giovito nuccio che chissà che non lo vedremo un giorno anche nel formato normale o in qualche libro qualche edizione speciale che ne so aspettate vi voglio far vedere tutte ecco queste sono le bellissime copertine di nuccio ok ragazzo ma vi dicevo io non l'ho ancora letto me la leggerò tutta insieme perché come avevo già spiegato essendo poche pagine non mi gustava pieno la storia essendo veramente poche pagine nel senso tante vignette tante strisce perché sono 62 però sono una decina di pagina poco più rispetto a uno gente normale quindi mi leggerò poi parleremo insieme fatemi sapere voi avete letto cosa ne pensate fino al 5 sembra letto fino al 5 la storia mi è piaciuta quindi spero in un finale all'altezza di quello che ho letto fino adesso a luca ragazzi l'ho visto queste c'erano per chi fosse interessato la bonelli le ha scusate blisterate e ha fatto una confezione da otto blisterata sigillata ecco quindi si possono prendere tutte insieme alla bonelli direttamente se non riuscite a reperire in fumetteria credo che ci siano anche sul sito sicuramente non ho guardato sul sullo store della bonelli ma le avevano a luca quindi io presumo senz'altro di sì ok volevo farvi vedere qualche tavola ecco questa qui a dire scusate c'è riflesso della luce ecco questa qui ad esempio c'è un combattimento per questa cosa questa è la 8 vi faccio vedere qualcosa della 7 perché essendo solo 10 pagine non voglio non voglio spoilerarvi molto ancora riflesso non c'è più e quindi vi faccio vedere qualche vignettina ma che striscia della della 7 chiaramente ragazzi in in un formato così la fantasia dell'artista del disegnatore un po limitata nel senso che non può fare cose grandi cose particolari si può dividere in due o in una vignetta però si può apprezzare lo stesso i disegni avevo visto una sfogliandola una vignetta forse nella 8 in cui cico ha un ecco forse qui una reazione alla zago diciamo insomma vediamo si riesca a far vedere questa pagina vado a fuori campo per farvi capire farvi non farvi spoilerare scusate no non è in questo ora non la trovo più ma vabbè insomma vediamo anche cico in azione ecco quello volevo dirvi c'è un cico bello attivo che non fa la solita parte del fifone era una bella vignetta non so se spara da un cazzotto forse era questa vabbè comunque dice anche la sua il nostro caro ciclo ok ragazzi allora finita la serie 8 mini strisce di questa mini serie chissà che in futuro anzi sicuramente in futuro ne vedremo qualche altra ogni io penso che un all'anno una ogni due anno sicuramente la bonelli le metta in cantiere e va bene sarebbe anche una buona occasione per far fare le copertine a un altro disegnatore ancora perché no è oltre gioivito potrebbe poi toccare a un altro che potrebbe essere non solo della monica o nando esposito insomma ce ne sono tanti bravi disegnatori va bene ragazzi ci vediamo presto per dei video perché sta arrivando intanto tutta la roba di lucca come ho detto la farò vedere tutta uno per uno appena mi arriva e poi ci sono la settimana prossima un sacco di uscite come avete visto dalle alte prime c'è un sacco di roba che sta arrivando in edicola quindi ci vedremo per dare un'occhiata insieme a tutte queste uscite per ora è tutto al prossimo video buona giornata a tutti